Ragazzi, che delusione! Non mi hanno scelto! Mi ero proposto bene al presidente Mattarella, al Sergione, eppure hanno scelto questo Conte. Conte? Chi è? Chi è sto Conte? Chi è? Anch'io ho fatto esperienze a Harvard, Oxford, Cambridge, eppure non sono bastate. Intanto guardatevi le previsioni del tempo. Previsioni per domenica 27 maggio. Al nord in Lombardia, al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, ma con tempo asciutto salvo locali piogge sulle Alpi centro-orientali e sul Veneto. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e sugli Appennini, con possibili rovesci temporali. Tempo asciutto altrove, con ampi spazi di sereno. Sul resto d'Italia, al mattino tempo stabile e sole prevalente sia sulle coste che sulle zone interne, eccetto qualche addensamento sul Lazio. Al pomeriggio locali fenomeni sull'Appennino soleggiato e asciutto sugli altri settori. Temperature minime, massime, stabili o in aumento. Non è ancora detta l'ultima parola. Io, che sono campione mondiale di briscola, ho fatto le Olimpiadi del Subuteo e ho navigato per mari e monti. Con la mia barca mi candiderò per essere il prossimo ministro dello sport. Quindi, sentirete parlare ancora di me. Ricordatevi che su CromTV splende sempre il sole. Arrivederci, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.